Ritale Institute Italy è presente da 25 anni a fianco dei retailer per sviluppare temi come la formazione, workshop, eventi, accompagnamento sulle strategie e viene naturale per Ritale Ritale Institute essere in questa bellissima manifestazione con Largo Consumo che è partner anche di nostre attività, quindi troviamo una sinergia totale in termini di contenuti, in termini di approccio e quindi per noi è immancabile essere presenti a questo appuntamento che ci porta a incontrare le eccellenze del Ritale, molti dei quali sono nostri associati e quindi ci fa piacere condividere con Largo Consumo e con i nostri associati questo momento di festa dove si celebrano i migliori progetti del Ritale.